Sicuramente uno dei nodi che ha avuto maggior successo quando a suo tempo facemmo la trasmissione di Passione Artificiale dedicata appunto ai nodi e alle loro tenute fu il cosiddetto Adriatic Knot, un nome che diede a questo nodo in virtù del fatto che a farmelo conoscere fu Roberto Ciaroni, espertissimo pescatore di Pesaro quindi di più o meno il medio Adriatico che mi raccontò essere uno dei nodi che veniva utilizzato nel periodo d'oro del big game al tonno rosso quando alla foce del Po si riuscivano a catturare esemplari anche di oltre 300 kg. È un nodo molto semplice che può essere fatto anche su lenza doppiata, si fa passare il filo all'interno dell'occhiello. A questo punto si tengono i due capi del filo con indice pollice e si creano 10 spire tornando indietro. Noi ne faremo 4. A questo punto basterà passare il nostro capo libero all'interno di quest'asola che si è creata serrando il nodo. Come vedete è un nodo molto semplice, molto difficile a cavallare le spire e questo quindi è un indice sicuramente di ottima tenuta che può arrivare addirittura al 100% del carico di rottura della lenza impiegata.